Benvenuti a EICMA 2012, allo stand Yamaha, siamo qui al badiglione 2 con oltre alle antiprime mondiali presentate a Colonia, che sono anche qui a Milano, l'FJR 1300 2013 e il nuovo Arox e ovviamente al concept che mostra per la prima volta il nostro motore a tre cilindri, il grande protagonista è ancora una volta il nostro T-Max, un anno di successi straordinari, 9000 pezzi venduti in Italia il T-Max è anche il veicolo a due ruote a motore più venduto in Europa, qui a Milano al secondo anno del nuovo modello presentiamo la versione Black Max una versione speciale con finiture particolarmente curate, cerchi oro e finiture dorate, prodotto per chi vuole qualcosa in più di quello che già il T-Max può offrire non solo però prodotto di serie perché abbiamo le tre special tra le quali butta qui alla mia sinistra il lavoro di Roland Sand Roland Sand ha avuto il coraggio, la capacità del genio di far capire qual è veramente l'anima del T-Max, spogliandolo completamente delle infrastrutture è diventato il primo scooter naked del mercato, oggi è un concept, una provocazione ma stiamo avendo un tale successo dal pubblico che lo sta vedendo insomma, vediamo cosa potremmo farne qui con me c'è quello invece preparato da Lazaret, il customizer francese con il compressore volumetrico proprio qui sotto che gli permette di superare i 200 km orari customizing anche sulle moto perché sull'IJR Milete presentiamo il progetto Yard Build Yard Build vuol dire scegliere i più grandi customizer del mondo farli lavorare sui nostri prodotti e poi preparare dei kit di trasformazione che verranno effettivamente messi in vendita per permettere a ciascuno di avere la sua special su base Yamaha nel caso IJR credo sia particolarmente interessante sapere che abbassiamo anche il listino di 2100 euro quindi la base d'accesso più facile da acquistare, più accessibile appunto e poi la possibilità di trasformarla in una moto da sogno come quella preparata da Orec Monkeys che è qui al nostro stand